ciao da lucia oggi voglio presentarvi la mia amélie amélie ve l'ho fatta in due versioni ed è questa bellissima maglia che voi non crederete mai ma anche questa è una maglia poncio e sembra difficile da crederlo ma lo è proprio e per questa idea devo ringraziare la mia amica amelia membro del mio gruppo creando con luci franci che ha postato appunto una foto di una mia maglia poncio girata in modo diverso e quindi io guardandola e non riuscendo a capire se fosse realmente la mia quando ho capito ho detto no io questa la devo fare e infatti lei mi ha detto assolutamente sì perché è veramente bella e quindi guardate qua ne è venuta fuori e l'ho chiamata proprio amélie grazie a lei io l'ho fatta in due diversi modelli allora il modello è lo stesso ecco correggiamo subito il modello è lo stesso ma una l'ho fatta con questo bellissimo filato sempre della ice arms e trovate sempre sotto in descrizione il link del sito italia artisan dove io mi rifornisco per i filati e questo in particolare è il sei luxury premium che probabilmente scusate la voce ma sono raffreddata probabilmente se non è già finito è comunque prossimo all'esaurimento ma vi lascerò comunque sempre in descrizione tre diversi link di filati che potete trovare sempre all'interno del sito alternativi a questo e questo filato vedete è molto bello luminoso e anche molto lucido e veramente caldo veramente molto molto bello io lo consiglio questo ma ho visto anche gli altri che sono assolutamente molto interessanti come filati quindi io vi consiglio per l'appunto di andare a vedere il sito di italia artisan perché effettivamente come dico sempre non ci sono filati buoni o meno buoni ma soltanto una buona scelta e la mia amica francesca vi saprà consigliare passo passo nella scelta dei vostri filati perché mi capita a volte di sentire a ma questo filato è 100% sintetico sarà buono dipende sempre dall'uso che se ne vuole fare del filato certo se vado a comprare il filato sintetico per amigurumi non posso pretendere che magari sia adatto a qualsiasi capo d'abbigliamento però certamente se vado a scegliere un sintetico premium quindi un sintetico di quelli buoni anche il sintetico sarà un ottimo filato come le lane ci sono comunque sono buone tutte ma bisogna scegliere bene in base al capo e all'esigenza che sia in quel momento quindi siccome sul suo sito ci sono veramente una moltitudine di filati tutti estremamente interessanti vi consiglio di dare una un'occhiata una scorsa al sito dopodiché se avrete delle domande potete contattare francesca e lei sarà veramente lei è molto gentile e disponibile e sarà sicuramente scusate la voce veramente tremenda sarà sicuramente in grado di aiutarvi nella vostra scelta io ho per l'appunto ho scelto questo filato per la mia melì ma ne ho fatte due come vi dicevo e c'è anche questa melì che è la versione estiva in cotone infatti vedete la vestibilità è leggermente diversa io questa l'ho fatta più a casacca quindi più larga più portabile diciamo per come piace a me dire le donne un po più burrose io le adoro le donne burrose tutte curve e cosa che purtroppo io non sono sono un po stecco comunque per le donne burrose ho pensato ecco a una linea un po più morbida quindi basta semplicemente variare le misure è un top down non top down perché ve lo spiego subito il top down come vi ho detto in passato a una piccola pecca che non è neanche tanto piccola diciamo alla pecca che non è adatta a tutti i fisici perché perché bisogna seguire la chiusura seguendo il raglan mentre questa chiude piatta quindi voi la potete chiudere come qualsiasi maglia con costruzione a t ma il pregio è che non ha cuciture quindi la potete trovare assolutamente portabile per tutti i fisici e soprattutto non avete non avrete la scomodità poi di dover cucire io per esempio sono veramente negata per le cuciture e diciamo che avere una maglia che viene fatta tutto in un unico pezzo e quindi non avere poi l'incombenza della cucitura per me era veramente un grande traguardo però ripeto volevo fare un top down che fosse alla portata e portabile da tutti e quindi ho pensato di farvi questo top down che in realtà non è il classico top down e quindi ha una vestibilità più adatta a tutti i fisici anche questo cotone che vedete è una che che sempre di ice arms e in questo momento mi sfugge il nome ma mi sembra proprio che sia cake cotton non ne sono sicurissima ma la sfumatura è inconfondibile altra cosa che volevo dirvi per l'appunto sono queste macchiettine mi ha fatto notare un'amica che c'erano queste macchiettine lei era preoccupata che potesse essere un difetto di fabbrica in realtà queste macchiettine sono proprio una caratteristica di questo filato io ritengo che la rendano molto particolare a me piacciono molto quindi se doveste ricevere questo filato con delle macchioline della tonalità più scura non vi preoccupate perché è proprio la caratteristica di questo filato vedete qua magari si vede un pochino meglio ci sono delle macchiettine grigie lei pensava che potesse potessero essere delle macchie per una cattiva conservazione o tintura del filato in realtà non è così è proprio la peculiarità di questo filato a queste macchiettine che rendono un po movimentato il filato a me piace molto perché non è il solito filato sfumato tutto allo stesso modo ma ha un po di movimento e di brio penso di avervi detto tutto io direi che quindi vi invito per l'appunto ad andare a vedere il sito di italia artisan di contattare la mia amica francesca nel caso abbiate bisogno di delucidazioni sui filati di andare a vedere in descrizione dove vi lascerò tutti i link per tutti i vari filati sostitutivi a questo perché ripeto potrebbe essere già andato in esaurimento a questo punto che cosa dirvi ancora venite a trovarmi sul gruppo facebook creando con luce franci e vi lascio al tutorial per iniziare il nostro lavoro io ho avviato 95 catenelle e adesso le andrò a chiudere in cerchio allora stiamo attenti a non girare la catenella quindi teniamola tra le dita lo dico sempre quando facciamo il lavoro chiuso a cerchio per evitare che si giri il lavoro ed entriamo nella prima catenella e chiudiamo con una maglia bassissima ora su questa catenella d'inizio andremo a fare tutto un giro di maglie basse dopo aver fatto il giro di maglia bassa chiudiamo nuovamente in cerchio ed iniziamo il nostro disegno quindi da qua partiremo a contare primo giro e secondo giro allora in questo modo allora facciamo tre catenelle che saranno la nostra prima maglia alta altre tre catenelle di separazione carichiamo e nello stesso punto andiamo ad inserirci con una maglia alta ecco qui abbiamo creato il nostro primo punto di dopo di che una catenella carichiamo saltiamo 12 e nel terzo punto sottostante andiamo a fare una maglia alta in quella dopo un'altra maglia alta e nella prossima un'altra maglia alta quindi ecco qui i nostri primi due punti del disegno il nostro disegno sarà creato per l'appunto da punti v separati da una catenella saltando due maglie sottostanti e moduli da tre nelle successive tre maglie sottostanti quindi sempre separati da una catenella quindi andiamo a fare la nostra catenella carichiamo il filo saltiamo due maglie sottostanti nella terza andiamo a fare il nostro post prossimo punto di qui maglia alta 3 catenelle nello stesso punto rinseriamo l'uncinetto andiamo a fare una seconda maglia alta quindi abbiamo creato un altro punto vi di nuovo catenella carichiamo saltiamo due maglie sottostanti nella terza andiamo a fare una maglia alta nella quarta maglia alta nella quinta maglia alta catenella di separazione di nuovo carichiamo il filo due maglie saltate nella terza andiamo a fare punto di una maglia alta 3 catenelle 1 2 e nello stesso punto di nuovo una maglia alta in questo modo continuiamo così fino ad avere sei blocchi da tre quindi siamo a due abbiamo fatto la nostra maglia saltiamo due nella terza andiamo a fare la prima maglia alta nella successiva la seconda maglia alta e nella seguente la terza maglia quindi facciamo questi sei blocchi e calcoliamo i moduli da tre facciamo questi sei moduli da tre e quindi vi faccio vedere come fare il primo angolo fatti i nostri sei moduli da tre facciamo la nostra catenella quindi carichiamo per andare a fare un altro punto di saltando le due maglie sottostanti entrando nella terza e facciamo in questo modo quindi facciamo una maglia alta per fare il punto di le tre catenelle di separazione e un'altra maglia alta sempre nello stesso punto quindi facciamo altre 3 catenelle di separazione ed entriamo sempre nello stesso punto facendo così un doppio punto di con in comune la maglia centrale in questo modo quindi ripartiamo nuovamente con la catenella quindi saltiamo sempre le due maglie sottostanti nella terza partiamo di nuovo con il blocco da 3 in questo modo 1 2 3 proseguiamo da questo lato esattamente come fatto in precedenza dall'altro lato ci rivediamo per chiudere il giro fatti i nostri sei blocchi arrivati nell'angolo carichiamo ed entriamo esattamente alla base della prima maglia alta quindi delle tre catenelle entriamo alla base facciamo la maglia alta 3 catenelle e andiamo a unire sulla scusate senza caricare andiamo ad unire con una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio eccoci qua io sto usando un uncinetto molto più grande di quello previsto per questo filato e quindi faccio un po fatica ad entrare ecco qua che cosa ci ritroveremo ci ritroveremo a tutti gli effetti l'inizio di quello che sarebbe un poncio ma che in realtà non lo è e appunto come avete già visto in precedenza ogni tanto mi impapero scusatemi allora andiamo direttamente con il secondo giro questo sarà sempre il primo giro e adesso andiamo al secondo questa lavorazione è proprio composta da solo questi due giri ora mi rendo conto che con questo filato risulta un po meno di visibile lavorazione quindi vi lascerò sopra nelle info il link del mio poncio fatto con lo stesso punto perché l'ho fatto con un filato leggermente più grosso di conseguenza si vede meglio appunto la lavorazione in questo caso io ho voluto farvelo vedere di nuovo perché per magari le più esperte oppure chi non lo vede nel telefonino o ma lo vede proprio con un bello schermo grande forse si riesce a capire esattamente dove entro e cosa faccio ma effettivamente questo filato è un po sottile quindi si fa un po fatica a farvi vedere bene essendoci appunto quel video potete tranquillamente vi lascio il link se non riuscite a vedere bene potete andare a vedere l'altro video per il punto quindi procediamo col secondo giro per il secondo giro facciamo tre catenelle che saranno la nostra prima maglia alta su quella centrale entriamo nel punto di subito dopo la maglia alta quindi in questo foro ed andiamo a fare sette maglie alta una due tre quattro cinque sei e sette come nel giro precedente facciamo una catenella e al centro del modulo da tre quindi sulla maglia centrale nel modulo da tre sottostante andiamo a fare una maglia alta di nuovo una catenella ci spostiamo nel punto b successivo e andiamo a fare sette maglie alta una due tre quattro cinque di nuovo una catenella e nuovamente sulla maglia centrale del gruppo da tre sottostante andiamo a fare una maglia alta e quindi proseguiamo in questo modo catenella per tutto il giro quindi sul modulo da tre andremo a fare una sola maglia alta catenella di separazione ventaglietto da sette sul punto b di nuovo catenella di separazione maglia alta al centro del modulo da tre sottostante e di nuovo al prossimo punto b di nuovo sette maglie alte ovviamente separate sempre dalla catenella ci vediamo al prossimo angolo arrivati all'angolo allora ho fatto la maglia alta sul gruppo da tre la catenella entriamo con le prime sette maglie alte all'interno della prima metà di angolo quindi nel primo punto b andiamo a fare le sette maglie alte 32 scusate 34 e pelosetto e ogni tanto prendo dentro i peletti questo filato e pelosetto mi piace per quello ma come tutti i filati pelosetti bisogna stare un po attenti quando li si lavora per non incagliarsi quindi siamo a 4 5 6 e 7 vedete abbiamo fatto la nostra prima metà di angolo facciamo una maglia alta sulla maglia alta centrale in questo modo e andiamo a fare sette maglie alte nell'altro nell'altra metà di angolo quindi per un totale di 15 maglie alte 1 2 3 3 4 5 6 e 7 una catenella maglia alta al centro del blocco da 3 vedete abbiamo creato il nostro primo angolo io spero si veda bene eccolo tiro su un po così si vede meglio abbiamo creato il nostro primo angolo quindi procediamo come lavorato fino adesso su tutto questo lato e ci rivediamo per la chiusura dell'angolo iniziale arrivati appunto a quest'angolo entriamo nella mezza di non ancora lavorata quindi qui vediamo se si vede faccio un po fatica ecco qua andiamo a fare le nostre sette maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 e chiudiamo ecco si è un po allargato il punto sotto chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio in questo modo eccoci qua siamo un po allargata qua la catenella vedete noi adesso siamo a questo punto allora scusate il filo dell'inizio del lavoro siamo a questo punto siamo a questo punto allora se fosse un poncio noi andremo a andremmo a chiuderlo in questo modo andremo a vederlo in questa posizione ma siccome noi ecco qua c'è un filo ma siccome noi stiamo facendo una maglia non sarà questo il senso del lavoro ma questo chiuderemo le due punte in modo da averle sui laterali in questo modo adesso andiamo a rifare il primo giro e ve lo faccio vedere perché vi faccio vedere come si costruisce sul secondo ma è assolutamente il primo giro quindi dal prossimo giro in poi continueremo da soli fino a quando non saremo arrivati all'altezza dello scalfo manica però quello è un altro discorso prima vi faccio vedere il secondo giro il primo giro scusate rifatto sul secondo allora ci alziamo con una maglia alta sarà metà del nostro punto di tre catenelle di separazione e di nuovo caricando il filo rientriamo nella prima maglia quindi quella nella stessa dalla quale abbiamo fatto le prime tre catenelle perché stiamo facendo appunto il punto di una catenella di separazione saltiamo due maglie e nella terza andiamo a fare la prima delle nostre tre maglie alte ecco qua quindi terzo quarto e quinto punto vedete abbiamo ricreato sul ventaglietto il nostro disegno quindi punto v catenella tre maglie alte catenella ora cosa facciamo carichiamo e sulla maglia alta singola che avevamo fatto sul blocco da tre andiamo a creare il punto v quindi entriamo nella nostra maglia alta singola con una maglia alta con una maglia alta tre catenelle di nuovo sulla stessa maglia alta singola una maglia alta abbiamo creato il nostro punto v catenella di nuovo abbiamo l'archetto da sette saltiamo le prime due maglie alte dell'archetto da sette sulla terza quindi terza quarta e quinta saranno tre maglie alte ecco qui una a fianco scusate ho preso dentro un peletto e una a fianco quindi praticamente ci ritroveremo con tre maglie alte sopra al centro dell'archetto quindi saltiamo le prime due sulla terza una maglia alta sulla quarta una maglia alta sulla quinta una maglia alta ci avanzeranno due maglie alte di nuovo catenella di nuovo un punto v sopra alla maglia alta singola che incontriamo dopo il ventaglio quindi scusate mettiamo bene uno tre catenelle e la seconda maglia alta sempre sulla stessa maglia alta sottostante una catenella di nuovo abbiamo il ventaglietto saltiamo le prime due maglie sulla terza facciamo una maglia alta sulla quarta facciamo una maglia alta sulla quinta facciamo una maglia alta procediamo così fino al prossimo angolo arrivati all'angolo stessa cosa abbiamo fatto il punto v saltiamo le prime due maglie alte sulla terza quindi facciamo la nostra prima maglia alta il blocco da tre sulla quarta facciamo la seconda e sulla quinta facciamo la terza una catenella carichiamo e vedete abbiamo andiamo a fare il nostro punto v sulla maglia centrale del nostro ventaglio da quindici proprio su quella centrale andiamo a rifare una maglia alta tre catenelle sempre nella stessa maglia sottostante una maglia alta tre catenelle sempre nella stessa maglia sottostante una maglia alta quindi abbiamo ricreato esattamente la doppia b che avevamo nel primo giro vedete è molto semplice il lavoro è ripetitivo è sempre lo stesso quindi una catenella di nuovo contiamo due maglie alte sottostanti le saltiamo sulla terza rifacciamo il nostro modulo da tre una sulla quarta la seconda e sulla quinta la terza maglia alta catenella e di nuovo ricominciamo ciò che abbiamo fatto sull'altro lato arrivata di nuovo all'angolo ho fatto il mio ultimo punto v la mia catenella vado sulla seco salto scusate le prime due maglie nella terza vado a fare la prima nel blocco da tre nella quarta la seconda e nella quinta la terza in questo modo una catenella e non faccio altro che rifare una maglia alta alla base delle prime tre catenelle quindi proprio nello stesso punto dal quale escono le prime tre catenelle in questo modo facciamo la nostra maglia alta tre catenelle e ci congiugiamo per l'appunto sulla terza catenella d'inizio in questo modo con una maglia bassissima ecco qua ora questo è il risultato che avremo al terzo giro terzo giro perché noi il primo di maglia bassa non andiamo a contarlo nella sequenza di giri quindi quindi dobbiamo ripetere questi due giri primo secondo primo ci sarà un secondo fino a quando sulla non avremo raggiunto la misura quindi così non saremo arrivate all'altezza dello scalfo manica poi quindi procediamo separatamente fino a quella misura poi proseguiremo insieme ecco qui come sarà il nostro risultato dopo 20 giri ora voi lo vedete così perché il mio poncio l'ho piegato al contrario se l'avessi messo dritto il poncio sarebbe con le punte in questa direzione quindi io l'ho già bloccato però magari uno riesco a ecco lo stacco così vi faccio vedere vedete se l'avessi lasciato dritto questo sarebbe il nostro poncio ma io l'ho girato al contrario quindi in questo senso piegando a metà le punte ho quindi fatto 20 giri senza contare il giro di di maglia bassa e ho preso la misura ho fatto 20 giri perché a 20 giri quindi per me riesco a chiudere gli scalfi ma riesco a fare già gli scalfi manica lo scalfo manica lo faremo sul punto singolo quindi vedete non sul sul ventaglietto ma sul punto andiamo a chiudere per lo scalfo sul punto singolo in questo modo allora io qui ho calcolato che per me per avere la larghezza giusta per il mio busto ho chiuso vedete chiudete a metà in questo modo essendo un poncio sia al davanti che al dietro risulteranno con lo stesso numero di disegni quindi piegati a metà l'angolo e io ho calcolato sovrapponendo il davanti al dietro quindi due tre ventaglietti interi senza calcolare l'angolo tre ventaglietti interi e vado a chiudere proprio nel punto successivo quindi vado a mettere un marca punti proprio sulla maglia singola in questo modo vedete così abbiamo preso la misura e sappiamo da dove dobbiamo partire da questa parte non vado neanche a metterlo perché partirò da qui chiudendo quindi non non vado neanche a marcarlo semplicemente li conto sono uno due tre ventagli quindi la maglia singola del disegno dopo al ventaglio sia davanti che dietro la prenderò insieme e ora vi faccio vedere come andiamo a chiudere allora faccio il mio cappio non aspettate perché ecco qua perché ovviamente abbiamo staccato il filo per chiudere l'angolo io nel frattempo l'avevo anche finito e quindi dobbiamo rimettere il nostro filo sull'uncinetto quindi abbiamo detto che contiamo uno due tre ventagli interi vado a infilarmi in questo senso quindi lo prendo dal dritto alzando la nostra maglia entro sia in quella da un lato sia in quella dall'altro in questo modo quindi prendo il filo vado a fare ecco qua una maglia bassissima dopodiché faccio tre catenelle che sono la prima maglia alta tre catenelle di separazione carico il filo entro sia davanti che dietro e vado a fare una maglia alta in questo modo noi abbiamo fatto il punto B ora procediamo solo sul lato ovviamente quindi vedete abbiamo attaccato poi non vi preoccupate questo qua girerà e non sarà più piatto da un lato solo ma ci agganceremo facendolo girare quindi non vi preoccupate ora andiamo avanti ecco qua in questo modo così vedete meglio perché ho il piano bianco andiamo avanti a lavorare tutto il giro come scusate non ne combinò una giusta come abbiamo lavorato fino adesso quindi abbiamo fatto il punto B facciamo una catenella e carichiamo saltiamo due maglie del ventaglietto sulla terza andiamo a fare le nostre tre maglie alte quindi sulla terza sulla quarta la quinta il ventaglietto quindi le tre centrali andiamo a fare le nostre maglie alte facciamo in questo modo fino all'altra chiusura della manica fatto ecco l'ultimo diciamo blocco da tre sul nostro ventaglietto siamo arrivati quindi ho già tolto il marca punti per comodità siamo arrivati alla maglia singola quindi di nuovo ho fatto la catenella dopo le tre maglie carico il filo entro nella maglia singola davanti prendo anche quella dell'altra metà di lavoro in questo modo controllo bene di aver suddiviso bene il lavoro vedete in questo caso non l'ho suddiviso bene perché non ho chiuso bene la punta quindi chiudiamo bene la punta e contiamo bene i ventagli sia davanti che sul retro quindi questo è il ventaglio corrispettivo entriamo anche in questa maglia alta allora aspettate in questo modo qui in questa e in questa come una maglia con una maglia bassissima in questo modo tre catenelle una due due tre tre catenelle di separazione e di nuovo la maglia alta prendendole tutte e due in questo modo abbiamo fatto il punto V giriamo il lavoro nell'altro senso vedete ci troviamo sul retro del punto V che abbiamo appena costruito facciamo appunto la catenella che facciamo sempre tra un disegno e l'altro e andiamo avanti normalmente a fare sulla terza maglia del ventaglietto la nostra prima maglia alta sulla quarta maglia del ventaglietto la nostra seconda maglia alta e sulla quinta la nostra terza maglia alta quindi procediamo normalmente col disegno della lavorazione fino a chiudere il giro arrivati a questo punto siamo tornati dove avevamo chiuso il lavoro con il punto V fatta la mia catenella entro nella terza catenella d'inizio e quindi vedete ho chiuso il giro normalmente come se stessi lavorando in tondo vedete ho fatto ho collegato le tre ecco qua il modulo da tre con la nostra punto V ora facciamo un giro tutto di lavorazione del punto quindi facciamo una sette catenelle scusate facciamo un ventaglietto da sette una maglia singola un altro ventaglietto da sette normalmente senza fare angoli quindi lavoreremo singolarmente e non più i doppi ventagli sugli angoli quindi in questo modo faccio le mie prime 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta entro nel nostro punto V e faccio due 2 3 4 5 6 7 maglie alte vedete una catenella una maglia singola sul modulo al centro del modulo da tre in questo modo ripeto lo sto lavorando con un uncinetto molto più grande del dovuto e di conseguenza insomma ogni tanto si incatta una catenella di nuovo sette maglie alte all'interno del ventaglio 1 3 4 5 6 7 una catenella di nuovo una maglia singola sopra alla maglia centrale del modulo da tre e così per tutto il nostro giro arrivati alla chiusura del giro fatta la nostra catenella andiamo a congiungerci nella terza catenella l'inizio con una maglia bassissima e così vedete abbiamo concluso il nostro giro e chiuso per la nostra manica ora ovviamente ve lo faccio vedere tutto sopra perché vedete lo abbiamo chiuso perfettamente per continuare appunto vedete vedete lo faccio vedere così per continuare a lavorare in circolare il prossimo giro sarà un giro come lo chiamo io di transazione perché dobbiamo cambiare il punto quindi cosa facciamo andiamo a lavorare camminiamo con aspettate ho tirato un po' il filo camminiamo con maglie bassissime fino alle tre centrali del nostro ventaglietto quindi una due sono ecco entro nella terza con una maglia bassissima e vado a fare tre catenelle due tre quindi facciamo normalmente il nostro modulo da tre sul ventaglio quindi sulle maglie centrali del ventaglio facciamo normalmente il nostro modulo da tre in questo modo dopo di che facciamo una catenella e invece di fare il punto v sulla maglia singola successiva faremo altre tre maglie alte quindi sulla maglia singola invece del punto v andiamo a fare tre maglie alte anche sulla maglia singola in questo modo quindi catenella di nuovo tre maglie alte sulle tre centrali del ventaglio quindi una due 3 catenella di nuovo tre maglie alte sulla maglia singola una due 3 facciamo così quindi tre maglie alte su ogni nostro disegno quindi sia sulla maglia singola che al centro del ventaglietto per tutto questo giro eccoci qui allora giro di transizione è finito vedete ci ritroviamo con tutti i moduli da tre maglie alte quindi tre sui ventagli e tre sulla maglia singola ho chiuso con una maglia bastissima appunto a fine giro ed ora andiamo con il giro definitivo definitivo è composto da quattro giri il disegno definitivo perché saranno tre giri di semplicissima maglia alta e un giro di maglia alta catenella maglia alta e allora facciamo in questo modo quindi ci alziamo con tre catenelle ora andiamo a fare una maglia alta in ogni maglia alta sottostante due tre andiamo a riempire anche il foro dato dalla catenella sottostante quindi entriamo con una maglia alta sulla catenella sottostante di nuovo tre maglie alte sulle tre maglie alte sottostanti ho scivolato non ci metto un attimino ecco qua non ecco qua ecco qua voilà quindi tre in questo modo e una sulla catenella tra i blocchi di nuovo tre maglie alte sulle tre sottostanti e una una sulla ehm aspettate c'è anche questo filo niente ehm dovrei tagliarlo quel filo ma prima lo devo bloccare perché sennò mi si disfa tutto e quindi tre sulle una sopra la catenella del giro sottostante quindi ci ritroveremo con tutto un giro di maglie alte di questi giri di maglie alte dobbiamo farne tre ci vediamo appunto al termine di questi tre giri di maglia alta questo sarà il risultato al termine del nostro giro vedete abbiamo ehm il disegno che termina in una semplicissima maglia alta ora come vi dicevo ehm andiamo fino al termine della nostra maglia facendo sempre tre giri di maglia alta e un giro di maglia alta catenella maglia alta saltando una maglia sottostante in modo da fare il forellino quindi una riga tre righe piene e una riga a forellini ora io vado a fare altri due giri di maglia alta così vi faccio vedere poi il risultato vi consiglio e questo è solo un consiglio ma che io adatto sempre anche se state lavorando in circolare di voltare sempre il lavoro e non procedere circolarmente sempre dal dritto perché perché la nostra riga di giunzione se lavoriamo senza girare il lavoro potrebbe stortarsi quindi io consiglio sempre per non avere quelle antiestetiche righe di giuntura che camminano in giro per il lavoro di voltare sempre il lavoro quindi vedete io adesso ho finito in questo senso ecco qua ho finito in questo senso faccio le mie tre catenelle volto il lavoro come se stessi lavorando un pannello e proseguo lavorando sul rovescio quindi faremo comunque dritto e rovescio anche se stiamo lavorando in tondo perché così questa riga non dico che non si vedrà del tutto ma in ogni caso sarà dritta quindi vi consiglio di fare proprio questo ora vado a fare i miei altri due giri di semplicissima maglia alta vi faccio vedere come continuare dopodiché siccome non ci sono né aumenti né diminuzioni questa è una casacca una maglia una casacca che va giù dritta non richiede diminuzioni di conseguenza l'elaborazione sarà sempre la stessa per il resto della nostra maglia ma ci vediamo comunque tra due giri allora io essendomi ferma dimenticata di fermarmi sono andata d'oltranza ho già fatto tutti i miei giri senza farvi vedere ovviamente il giro di maglia alta catenella maglia alta ma ve lo faccio vedere subito allora partite praticamente con quattro catenelle che sarà la vostra prima maglia alta e la catenella di separazione in questo modo saltate la maglia successiva andate nella prossima quindi saltate sempre una maglia sottostante e andate a fare la maglia andate a lavorare la maglia sulla maglia dopo catenella ne saltate una in quella dopo quindi facciamo maglia alta catenella ne saltiamo una sottostante maglia alta in questo modo catenella ne saltiamo una ecco qui maglia alta e procediamo così fino al termine di questo giro dopodiché ecco vedete alla fine siamo arrivati facciamo la catenella e saltando quella sotto andiamo ad attaccarci sulla terza catenella d'inizio contatele perché ovviamente ci sarà una catenella di separazione prima della prossima maglia quindi il risultato dovrà essere questo vi faccio vedere la la maglia praticamente finita in questo modo ma non è finita perché adesso dobbiamo rifinirla quindi dobbiamo fare il nostro bordino andiamo subito quindi a vedere come si rifinisce quindi la nostra maglia prima di fare il giro di rifinitura al nostro ultimo giro forato andiamo a fare quindi tutto un giro di maglie alte quindi abbiamo fatto le prime 3 catenelle che è la prima maglia alta entriamo nell'archetto creato da una catenella e facciamo la maglia alta dopodiché sulla maglia alta facciamo la maglia alta facciamo praticamente il giro che non vi ho fatto ancora vedere ma che è stato presente in tutta la maglia quindi il giro dopo la maglia alta catenella maglia alta quindi in questo modo andiamo una all'interno dell'archetto da una catenella e uno sulla maglia alta una maglia alta all'interno dell'archetto e una sulla maglia alta quindi andiamo praticamente a riempire di nuovo tutto il nostro lavoro facciamo questo fino al termine del giro eccoci arrivati agli ultimi due giri della nostra maglia che sono quelli di rifenitura allora il primo giro sarà uguale al primo giro del nostro inizio lavoro quindi ci alziamo ecco con una piccola differenza senza fare gli angoli ovviamente quindi ci alziamo con una due tre catenelle facciamo tre catenelle di separazione carichiamo ed entriamo nella stessa maglia con una maglia alta a formare un punto V in questo modo vediamo se si vede perché è un po' lontana in quadratura una catenella di separazione saltiamo due maglie sottostanti sulla terza facciamo la prima del nostro modulo da tre poi ecco qua si è spostata la videocamera scusate poi la seconda in quella successiva e la terza in quella dopo in questo modo vedete così catenella di nuovo saltiamo due maglie sottostanti e rifacciamo un punto V quindi maglia alta tre catenelle di separazione di nuovo maglia alta nella stessa maglia sottostante quindi di nuovo catenella di separazione saltiamo due maglie sottostanti nella terza una maglia alta quarta la seconda maglia alta quinta la terza maglia alta quindi procediamo ricostruendo il nostro primo giro del disegno a inizio della nostra maglia intanto la videocamera va a passeggio eccoci qua io faccio questo giro e andiamo a fare l'ultimo insieme eccoci arrivati all'ultimo giro della nostra maglia quindi abbiamo fatto tutto questo giro vedete punto V e tre maglie alte esattamente come il disegno iniziale però non andremo a fare il secondo giro del nostro disegno iniziale perché l'ho leggermente variato per potergli dare comunque una un diciamo un disegno da chiusura lavoro mentre il il secondo giro del nostro motivo fantasia lo vedevo un po' meno adatto alla chiusura del lavoro in questo caso e quindi facciamo in questo modo allora siamo sul nostro punto V entriamo con una maglia bastissima e facciamo tre catenelle che sarà la nostra prima maglia alta carichiamo il filo e andiamo a fare altre tre maglie alte per un totale di quattro maglie alte quindi una due tre e quattro due catenelle di separazione e di nuovo sempre nello stesso punto V altre quattro maglie alte quindi una due tre quattro quindi avremo un ventaglietto formato da quattro maglie alte due catenelle quattro maglie alte ora invece di fare una maglia alta sopra il nostro modulo da tre vediamo se si vede così qui sopra il nostro modulo da tre invece di fare una maglia alta andiamo a fare sempre al centro del modulo da tre quindi sulla seconda maglia una maglia bassa di nuovo senza nessunissima catenella di separazione andiamo a fare andiamo direttamente sul punto V quindi in questo modo con quattro maglie alte una due tre quattro due catenelle e di nuovo quattro maglie alte sempre nello stesso punto V tre quattro in questo modo vedete andiamo a fare dei bellissimi ventaglietti a punta quindi di nuovo senza catenelle di separazione andiamo al centro vediamo eh perché scusate ecco qua al centro del nostro eh modulo da tre quindi sulla maglia centrale del modulo da tre andiamo con una maglia bassa di nuovo senza catenelle carichiamo il filo entriamo nel prossimo punto V con quattro maglie alte due tre quattro due catenelle e di nuovo una due tre e quattro maglie alte in questo modo quindi proseguiamo così fino al termine del giro arrivati in fondo al nostro ultimo giro e fatta la nostra ultima maglia bassa non ci resta che senza nessuna catenella andare a congiungerci nella terza catenella catenella di inizio in questo modo ecco qua entrati congiungiamo tiriamo il filo io faccio una catenella di sicurezza e poi cammino almeno su tre maglie a maglia bassissima io lo faccio sempre per sicurezza ad ogni fine giro quindi entro nello spazio un pochettino ecco qua tiro il nostro filo adesso andrò a tagliare ecco qua tagliamo il filo e poi andremo a ovviamente nascondere i fili della nostra maglia il risultato finale come potete vedere è questo vedete l'abbiamo finita con tutti dei ventaglietti a punta che insomma vanno a rifinire un po' la nostra maglia è molto particolare io spero vi sia piaciuto lavorarla perché è veramente facile e veloce quindi ha una lavorazione molto facile adatta tutti e poi ripeto va bene per tutte le taglie perché non essendo normalissimo top down ma semplicemente partiamo dall'alto ma non abbiamo un raglan da seguire che può star male se portato troppo basso diciamo che la possiamo chiudere in qualsiasi momento quindi se vogliamo farla più larga facciamo un giro in più oppure lasciamo più stretti nelle maniche se vogliamo farla più stretta lo possiamo fare quindi a vostro piacimento può essere portata appunto come maglia sportiva con un filato più sportivo come vi ho fatto vedere a inizio video oppure con un filato più raffinato e pregiato comunque più classico come questo che ha dentro un po' di lucido ha un po' di brillantezza e quant'altro è assolutamente molto più elegante quindi con un bel pantalone elegante con una bella gonnellina è molto d'effetto io spero vi sia piaciuto anche questo video vi mando un bacione vi invito sempre a venire a trovarmi nel gruppo facebook creando con luce franci vi invito ad andare a vedere il sito italia artisan per scegliere i vari filati che potrebbero servirvi per i vostri lavori è molto fornito la mia amica francesca è molto gentile carina vi aiuta nella scelta qualora voi non non abbiate le idee ben chiare io vi saluto vi mando un bacio e al prossimo tutorial ciao ciao da luci ciao ciao ciao